L'orella boccia, da ballerina conduttrice, con Ezio Greggio, è nata una stella, mozzafiato da amici al festival di Monte Carlo. Il lavoro va a gonfie vele, e anche l'amore con Nicolò Presta, sposa un essere speciale, dice al settimanale Oggi L'orella boccia, da ballerina conduttrice, con Ezio Greggio, del festival di Monte Carlo, in onda su canale 5 l'11 marzo. È nata una stella, mozzafiato, una bella promozione a 26 anni, ma lavora nel mondo dello spettacolo da parecchio tempo. E ora, la promozione, da amici di Maria De Filippi, L'orella è arrivata a condurre il festival di Monte Carlo al fianco di Ezio Greggio. Ero impaurita, pensavo, sei in grado? E mi rispondevo, sono pronta, racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi, e in edicola. Ezio Greggio è un uomo straordinario, galante. Sposo un essere speciale, anche l'amore vola, tutto è pronto per il matrimonio con Nicolò Presta, figlio di Lucio, agente dei VIP. Ho l'uomo giusto accanto, lui è un essere speciale. Che cosa l'ha conquista di lui, i suoi occhi belli che sono esattamente lo specchio della sua anima. Outro Outro